I volontari dell'Unicef, riuniti a Palazzo Tursi a Genova, hanno consegnato un premio al sindaco Marta Vincenzi. Ce ne parla Giorgio Giglioli. Storico il rapporto tra Genova e l'Unicef. A Palazzo San Giorgio nel 1986 si svolse l'unico incontro del Comitato Scientifico Nazionale di Unicef, appena costituito, che fruttò la proposta italiana al gruppo di lavoro dell'ONU che stava redigendo la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, prolungata poi tre anni dopo, nel 1989. A Genova sono molteplici le iniziative che si susseguono sul territorio, soprattutto con il coinvolgimento dei bambini delle scuole. E a Palazzo Tursi oggi il meeting dei volontari, 100 in tutta la regione, dei quali 50 nel capoluogo, e il premio alla sindaco Marta Vincenzi per le attività a sostegno dell'infanzia. È un'iniziativa che serve proprio per cercare di legare l'amministrazione comunale alla città e ai cittadini a difesa dei diritti dell'infanzia. E pensiamo che il sindaco, e questa è stata la nostra scelta, di nominare proprio la persona che effettivamente rappresenta tutti, il primo cittadino. E tra i progetti quello del docente garante. Il nostro progetto di docente esperto garante dei diritti è un insegnante che è presente presso tutte le scuole e ha il compito proprio di intercettare le situazioni di disagio dei giovani e rappresentarli alle amministrazioni esterne e quindi all'amministrazione comunale. Questo docente esperto è un docente che noi abbiamo già individuato in molti plessi e continueremo in quest'opera di formazione.